Ciao ragazzi, siete pronti per cominciare una nuova batteria di domande? Bene, vado subito con la prima. Cosa intende Guilford per flessibilità del pensiero divergente? Capacità di passare da una successione di idee ad un'altra. Seconda domanda. Qual è l'opera di Comenio richiamata a fondamento della pedagogia? Per Anna Freud è importante che il terapeuta si accosti alla comprensione del bambino interpretando i comportamenti simbolici, sogni, giochi e attività espressive. Quarta domanda. Cosa si intende per conflitto socio-cognitivo? La dinamica di costruzione in comune delle risposte attraverso la messa in discussione dei rispettivi punti di vista. Quinta e ultima domanda in inglese. I come, Rome. I come, Rome. Bene ragazzi, con queste cinque domande per oggi abbiamo finito. Noi ci vediamo alla prossima.